Siamo nella sala del maggior consiglio all'interno di Palazzo Ducale, luogo più sacro, più importante, più simbolico della storia della Repubblica Serenissima. In questa grandissima sala, che non ha uguali nell'architettura del tempo, per dimensioni e per pregio delle pitture, si riuniva l'Assemblea degli Aristocratici ogni domenica per votare le decisioni delle magistrature del Senato. In questa sala, nel 1577 scoppia un furioso incendio che devasta completamente le decorazioni e soprattutto rende assolutamente più invisibile il grande affresco del guariento, questo pittore padovano che aveva realizzato alle spalle della signoria, alle spalle della tribuna, un enorme dipinto ad affresco appunto che riguardava l'incoronazione della Vergine. Tutto va in fumo, si perdono dipinti di Pordenone, di Tiziano, dei Bellini e dunque è necessario immediatamente provvedere ad una nuova decorazione. Il Senato immediatamente si attiva e nel 1582 emana un concorso pubblico dove naturalmente partecipano i più grandi dell'epoca, è un po' la generazione leggermente più giovane. Parliamo di Veronese, parliamo di Palma, parliamo di artisti come Bassano e naturalmente Tintoretto. Tintoretto partecipa al concorso ma non lo vince, è Veronese e Bassano che vincono il concorso, ma si attardano, i tempi si allungano e nel 1588 la decisione del Senato è quella di attribuire finalmente questa pittura che ormai necessitava ed era urgente da poter mettere nel luogo a Tintoretto. Tintoretto non è più giovane, aveva alle spalle però una carriera straordinaria. Sappiamo che aveva realizzato dei cicli fondamentali nella città che ancora oggi per il loro impeto pittorico ci lasciano a bocca aperta. Pensiamo al suo capolavoro, alla sua Cappella Sistina, alla Scuola Grande di San Rocco, ma era importante essere qui, ancora una volta essere qui a Palazzo Ducale dove aveva già avuto una presenza significativa con ben 18 tele dentro la storia del palazzo e dentro le altre sale. Dunque aiutato dalla sua bottega, dall'atelier e dal figlio Domenico si appresta a realizzare questo grandissimo dipinto. Dicono che sia uno dei più grandi di quel tempo? È probabile, non lo sappiamo con certezza. Certo sono più di 140 metri quadrati di pittura realizzati come sembra tutti d'un fiato, come era tipico del lavoro di Tintoretto. Questa sua capacità straordinaria di una tenuta eccellente della composizione, del rapporto tra pieni e vuoti, della prospettiva, di questo affollamento straordinario che lui riesce a realizzare, a gestire all'interno di una composizione che dà un po' un senso di horror vacui se non fosse per quella luce divina che in qualche modo porta segno della bontà del cielo e quindi porta, annuncia favori alla Repubblica da parte del Cristo. Il tema è il paradiso, è un tema importante che è appunto in qualche modo ricorda l'incoronazione della Vergine dell'affresco del guariento ma che si sviluppa in maniera ormai totalmente diversa, del resto sono passati dei secoli tra il dipinto di Tintoretto e quello che lo precede, quindi lo stile, la moda, il pensiero, la cultura, la filosofia è completamente cambiata. E in questa direzione gli aveva dato un buon aiuto il monaco camaldolese Girolamo Bardi che aveva scritto la descrizione nel dettaglio di tutta la decorazione di queste nuove sale che l'incendio del 1577 aveva distrutto, scrutinio e appunto maggior consiglio. Il quadro è un quadro di grande forza, di grande vocazione e come tutta la decorazione della sala è un quadro che ci rimanda esclusivamente alla gloria di Venezia, ai momenti alti della sua storia politica, della sua storia sociale, civile, delle sue conquiste per mare e per terra. Per Tintoretto è un quadro conclusivo, un quadro che in qualche modo segna l'ultimo atto di questa sua vita intensissima in cui ha dato tantissimo alla città di Venezia, ai suoi palazzi, alle sue decorazioni. Primo fra tantissimi altri artisti e forse in qualche modo più moderno di tanti altri artisti perché bisogna pur dire che questa forza, l'energia del lavoro di Tintoretto, questa sua capacità di superare certi accademismi del disegno e di lavorare soprattutto con il colore, con la materia, con il cromatismo, con la luce, fanno di lui forse uno dei veri antessignani della pittura più contemporanea che di lì a poco arriverà anche qui, sulle rive del mare Adriatico. Raskin diceva che era il quadro più bello della storia dell'arte, Mark Twain quando viene in visita a Venezia ne dà un'ironica raffigurazione e ricorda che al suo avviso questo quadro sembrerebbe raccontare la storia di un sabato in cui tutti sono affaccendati e non c'è un momento da perdere. Forse è così che se l'era immaginata anche Tintoretto l'ascesa al cielo, l'ascesa verso questo dio un po' laico e un po' religioso che comunque dava soprattutto grande senso al valore della Repubblica.